ciao bambini benvenuti al chiostro del bramante io sono elisa e oggi leggerò un libro per voi è un libro bellissimo realizzato da un illustratore che si chiama fausto fausto gilberti è un grande appassionato di arte contemporanea l'arte dei nostri giorni questa volta ci ha raccontato la storia di un artista super misterioso le cui opere proprio in questo periodo si trovano nel nostro museo venite con me si non è il mio vero nome ma il nome che ho scelto per nascondermi tranquilli non sono un rapinatore sono un artista e dipingo per strada sui muri delle città anche se farlo non so se lo sapete è proibito dalla legge per questo mi nascondo per non farmi arrestare dalla polizia i dipinti che faccio sui muri si chiamano graffiti uso bombolette di vernice spray nera e mi piace dipingere soprattutto topi i topi si nascondono e si muovono creando un po di scompiglio proprio come faccio io non vi dico cosa è successo quando ho messo 200 topi vivi dentro una galleria d'arte ma secondo voi bambini se ben si ha sempre realizzato dei graffiti per strada come mai le sue opere si trovano oggi al museo ho dipinto in tutto il mondo sui muri di case e palazzi ponti garage quasi tutti i graffiti che ho fatto per strada sono stati cancellati scarabocchiati o rubati così ad un certo punto ho deciso di dipingere anche dei quadri l'idea di venderli a collezionisti d'arte che li avrebbero appesi sopra il caminetto del salotto però mi faceva venire il mal di pancia io sognavo di esporli in un museo ma non avevo voglia di aspettare di morire o di invecchiare per diventare famoso come accade di solito agli artisti avevo fretta perciò sono entrato in un importante museo di londra e senza chiedere il permesso ho attaccato un mio quadro alla parete per non farmi riconoscere ho indossato un cappello un cappotto e poi mi sono messo naso e barba finti ho fatto lo stesso scherzo in molti musei persino a louvre di parigi poi un giorno ho pensato che sarebbe stato bello fare una grande mostra nel museo della città dove sono nato a bristol in inghilterra quella volta però ho chiesto il permesso al direttore che ha detto di sì pensate bambini c'è un'opera che al museo molto famosa famosa davvero in tutto il mondo tutti la conoscono tutti l'hanno sicuramente vista almeno una volta esatto è proprio quella a cui state pensando è la ragazza con il palloncino quest'opera ha una storia incredibile è apparsa su un muro è diventata una serigrafia che è una stampa molto preziosa e particolare è finita sui libri di arte è stata condivisa sui social ma un giorno ha fatto quello che nessun'altra opera al mondo aveva mai fatto si è autodistrutta giorno ho fatto un quadro che si è autodistrutto nel momento in cui è stato acquistato da una ricca signora che voleva diventare ancora più ricca dovevate vedere la faccia di quella ricca signora che aveva appena speso un sacco di soldi per niente ragazzi ho fatto tante cose in questi anni ma non avrei mai immaginato di diventare così famoso il fatto più strano però è che sono famoso per milioni di persone che non hanno mai visto la mia faccia e non sanno che sono veramente ma si divertono a cercare di scoprirlo c'è chi dice che sono una signora che tra una spesa e l'altra trova anche il tempo per dipingere c'è chi dice che sono un musicista che tra un concerto e l'altro trova anche il tempo di fare l'artista di strada c'è chi dice che non sono una persona sola ma un gruppo di persone che tra un graffito e un quadro trova anche il tempo di fare tantissime cose insieme e addirittura c'è chi dice che sono se proprio volete saperlo non vedo l'ora che qualcuno lo scopra è buffo da dire lo so ma anch'io vorrei scoprire chi sono e secondo te Banksy chi è non vedo l'ora che ci sono